Mi occuperò ancora di cultura. Queste le parole dell'assessore al ramo del comune di Bova Marina Maria Luisa Ollio nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso il municipio per presentare i caffè letterari che da questo sabato ogni mese fino ad aprile porteranno autori ed artisti nella cittadina Ionica. Smentite quindi le voci circolanti su Facebook in queste ultime ore. Proseguo con serenità, ha detto l'assessore, la mia attività e mi impegnerò ancora di più nella valorizzazione della cultura nel nostro territorio. Sicuramente, come già diceva il sindaco, questo è solo l'inizio di un programma che sarà ben più vasto, che ha come obiettivo la valorizzazione della cultura, la cultura come nutrimento dell'anima e della mente. Sì, mi occuperò ancora di creare queste iniziative perché il mio obiettivo è quello di dare vigore e far rivivere nuovamente attraverso l'aiuto di tutti i bovesi la nostra terra.